Ristrutturazione e trasformazione di edifici storici a Napoli e nella provincia per 554 milioni di euro già finanziati e altri 254 milioni in arrivo. E questa è la base da cui parte a Napoli l'approfondimento del lavoro che il Comune di Napoli e la città metropolitana stanno attuando in piena sinergia con l'Agenzia del Demanio, che ha tenuto un forum sul tema La città in movimento, presso l'Agen di Napoli. La nuova agenzia del Demanio lavora in contatto diretto su razionalizzazione degli spazi urbani, sulla valorizzazione degli immobili e sugli investimenti da fare in base a piani verso il futuro, tra cui la rigenerazione urbana, la mitigazione del rischio sismico e l'efficientamento energetico. Ascoltiamo Mario Parlagreco, direttore regionale Campania dell'Agenzia del Demanio. Siamo orientati come direttrice in principale al risparmio della spesa pubblica, quindi tutto quello che è fitto passivo viene tramutato in investimento per poi consentire di risparmiare su fitti passivi. Questa è una direttrice fondamentale, l'altra è il valore sociale che andiamo a generare, che integra un po' quella che è la tradizionale nostra linea di risparmio di spesa, oggi orientata anche a rigenerazione e sostenibilità. A Napoli sono 30 gli immobili del Comune entrati nel pieno di investimenti edilizi, a cui si aggiungono tre edifici della provincia. In prima fila i lavori già avviati e finanziati dal Demanio a partire dall'ex caserma Boscariello a Miano, che diventerà il nuovo polo di polizia con la cittadella della sicurezza. Ascoltiamo il presidente ACEN, Angelo Lancellotti. La riqualificazione delle zone, perché parliamo anche di zone difficili, Miano, la caserma Garibaldi, insomma zone in cui effettivamente non si interviene da anni, quindi il processo virtuoso di poter attrarre degli investimenti privati per noi sarebbe fondamentale. Poi si tratta di interventi di qualità, cioè nel senso che l'Agenzia del Demanio ha al suo interno un codice di comportamento e di progettazione sostanzialmente, per cui tutti gli interventi sono anche attenti alla transizione ecologica, quindi sono anche un esempio virtuoso su come intervenire.